Numero 1, Maria Latora, Numero 1, Maria Carasca, Numero 6, Maria Sciobala, Numero 1, Maria Cattacumni, nero 1, Maria Cattacumni con un numero 500, Valendino, Marte e Ministero, con un concorrento che c'è Paola Campini ci purono un mondo da ottenzione Andrea Caracocci, c'è poi un grande però ed è venuta a terra, entra e andate, ci pioche un connessi voti, Grazie a tutti.